Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge di conversione del decreto, il cosiddetto Mille Proroghe, ma ha accompagnato la firma con una lettera di riserve riguardanti la norma concernente i balneari, perché sono necessarie e si legge ulteriori iniziative di governo e Parlamento per correggere le norme che in ogni caso si presterebbero a contenziosi e probabili impugnazioni con l'Unione Europea, il Consiglio di Stato e gli enti locali, posizione che la Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto condivide. Questo aspetto non fa altro che testimoniare un fatto che c'è ancora poca chiarezza, che c'è una grande preoccupazione, che in questo momento gli investimenti sono a rischio e anche la certezza del diritto. Una norma poco chiara oggi crea delle gravi incertezze, delle gravi difficoltà agli operatori, ma anche agli apparati comunali che devono fare le procedure e quindi una grande preoccupazione anche per conto dei sindaci. Ovviamente il governo non ha fatto altro che, essendo appena arrivato, cercare di capire quello che non era stato fatto, ed era purtroppo molto, e di conseguenza ci si trova in questa difficoltà perché nel corso degli anni il comportamento è stato altalenante e le difficoltà sono state tante. L'Europa non ha aiutato. La richiesta è quella di arrivare alla soluzione più brevemente possibile.